Il capitano del Vasso United, Fabio Reggiacorte, è arrivata una vittoria incredibile in questa finale di coppia, un 3-0 che ha annichilito il Casalanguila. Sì, e probabilmente poteva finire anche con un risultato più rotondo. È una grande soddisfazione perché comunque in campionato abbiamo avuto un sacco di difficoltà e loro hanno avuto il merito di non abbassare mai il livello e la tensione e quindi meritatamente hanno vinto con anticipo, con tutti i punti di vantaggio che hanno. Noi ci tenevamo, ci tenevamo tantissimo perché era l'unica occasione per rifarci di qualcosa nei loro confronti. Purtroppo a inizio anno siamo partiti con 16, se non sbaglio 16 o 18 elementi nuovi che comunque non è facile mettere insieme. Oggi abbiamo chiuso il cerchio, nel senso che siamo arrivati ad essere veramente una squadra che se la può giocare con tutta. Adesso in campionato, puntate ai play-off per andare in seconda categoria. Assolutamente, l'obiettivo era quello all'inizio stagione, quello di salire e rimane quello di vincere i play-off e arrivare in seconda categoria. Quindi ce la metteremo tutta e oggi è sicuramente un ottimo punto di partenza per quella fase lì. Dedichi a qualcuno in particolare questa vittoria? Dedico innanzitutto alle persone che mi permettono di assecondare questa mia grande passione e quindi la mia famiglia. Perché comunque sono tanti sacrifici che uno fa durante l'arco dell'anno ed è giusto dedicarle innanzitutto a loro. E poi a questo gruppo che davvero è riuscito in otto mesi a diventare una squadra e non è facile, non è mai facile. Prossimo anno vestirei ancora questa camaglia? Assolutamente, sì. Assolutamente, grazie.